Cari amiche e cari amici della Palamano, ben trovati a 7 metri. Lo scorso fine settimana tutte le quattro squadre regionali impegnate nel massimo campionato hanno vinto, vince molto bene il big match il Brixen in casa contro il Conversano, vince il Fasano, vince il Merano in casa contro il Rubiera, vince il Bolzano. Quindi vittoria di tutti, un Fasano che comunque si mantiene in testa della classifica, c'è una bella mucchiata in testa della classifica, perdono solamente le ragazze del Brixen, si tirano la prima sconfitta contro il Casagrande. Ma di questo e di tanto altro vado subito a presentare i miei ospiti, saluto Luca Zadra. Ciao Luca. Buonasera Walter, buonasera a tutti. Un Pressano che è un po' sorpresa, un po' no, comunque in testa della classifica. Ma sì, in testa è un po' difficile da dire, visto insomma come hai detto tu la mucchiata che c'è in cima alla classifica, sono state giocate ancora poche giornate. Però diciamo che fino adesso secondo me abbiamo fatto il nostro dovere e speriamo di confermarci nelle prossime uscite che sono quelle che veramente saggeranno il nostro stato di forma e il nostro livello. Voi avete perso praticamente all'esordio contro i campioni d'Italia, però poi avete vinto anche adesso con Siracusa che era una squadra che sulla carta aveva quattro punti. Sì, abbiamo giocato dopo Conversano tre partite da vincere e le abbiamo vinte. Quella più dura probabilmente è stata a Carpi, infatti in trasferta abbiamo sempre un po' di difficoltà, però ce l'abbiamo fatta e questo è sicuramente un dato positivo. Adesso secondo me già sabato in casa contro il Pasano si vedrà che livello abbiamo. Salutiamo anche con piacere Juan Pablo, Juan P. Queglio, ciao Juan P. Ciao Walter, ciao Luca, grazie per l'invito. Voi una vittoria contro il Rubiera in casa, un primo tempo dominato, secondo tempo con un po' di patè, ma diciamo così, però alla fine l'avete portata a casa. Sì, sì, una partita che non era facile come qualcuno pensava, veramente il primo tempo l'abbiamo approcciato bene, abbiamo preso un po' il largo, il vantaggio e poi il secondo tempo loro hanno raggito, ma sempre l'avevamo lì e abbiamo potuto vincere. Ecco, entriamo nel vivo della trasmissione, vediamo grazie all'aiuto della regia quelli che sono i risultati della Serie A Gold questa quarta giornata del massimo campionato. Dicevamo appunto Merano che vince contro il Secchia 31 a 27, il Bolzano contro il Campus Italia 42 a 37, una partita con tantissime reti, soprattutto al primo tempo il Bolzano aveva dato grande prova di forza. Il Cassano che batte il Carpi 30 a 28, il Pressano si diceva appunto vince 25 a 19 contro il Siracusa, poi c'è stata la netta vittoria del Sassari su Romagna 34 a 25, poi il Brixen che vince 28 a 23 col Conversano, forse era il match più bello della giornata, e poi il Fasano che vince contro il Fondi 32 a 28. Vediamo la classifica, la classifica vede Sassari, Bolzano, Pressano, Fasano e Conversano a 6, Merano Cassano a 5, Brixen che deve recuperare due partite, che potenzialmente sarebbe a punteggio pieno a 4, assieme all'Albatro e poi via via tutte quante le altre. Una classifica, Luca, che se vedi così, diciamo c'è già un po' un divario tra le ultime che sono un punto a 0 e tutte le altre che sono sopra. Sì, quello sì, c'è già un colpo d'occhio che fa vedere quali sono le squadre un po' più in difficoltà in questo avvio di campionato, e chissà che poi non siano in difficoltà anche nel prosieguo, e le squadre invece che possono stare in alta o media classifica. La partita poi durante la stagione secondo me sarà tra il andare o non andare ai play-off e andare o non andare ai play-out. Le primissime e le ultimissime forse già più o meno si delineano. Play-off, voi ovviamente è il vostro obiettivo quest'anno, l'obiettivo dichiarato un pochettino anche dal presidente all'inizio stagione. Voi adesso avete iniziato la stagione senza Max Prantner, che sappiamo quanto è importante per il vostro gioco. Adesso non so come sta lui, a che punto è il... Sì, non ci nascondiamo, l'obiettivo è andare a play-off, e penso di tutta la squadra, anche i dirigenti, tutti. Sì, l'inizio senza Max, un po' difficile, lui è uno dei, tra virgolette, i più vecchi della squadra, che ha fatto più anni in Serie A, penso, dei nostri. E niente, si sente un po' la sua mancanza. Più vecchio, parlando di un ragazzo di 2000. No, diciamo, ha fatto già tante stagioni in Serie A, ha la sua esperienza. Certo, vediamo che è il campionato femminile, il Serie A femminile si giocava la terza giornata, qui abbiamo la vittoria del Ferrara 30-27 sul Cassano, poi il Pontigna che batte il Prato, il Prato che era in battuta, era la formazione un po' a rivelazione, 33-18, il Salerno che vince con l'erice, 31-25, la sorpresa, il Casal Grande che batte le campionesse d'Italia del Brics & Citroel il 26-22, il Brics & Citroel che erano avanti anche per tutto il primo tempo, poi il Mestrino che batte il Termo 30-28, e poi il pareggio, il bel pareggio delle ragazze del Mezzocorona, Padova 30-30. Vediamo la classifica, vediamo il Salerno a 6, si è staccato in testa, già a punteggio pieno, poi già sotto 4, Pontigna, Brics & Citroel, Erice, Casal Grande, Prato a 4 e via via tutte quante le altre. Luca un tuo commento, il Brics & ha cambiato molto, si diceva anche prima? Sì, ha cambiato molto e quindi chiaramente prima o dopo qualcosa potrebbe, ci si poteva aspettare insomma che pagasse, è comunque un campionato molto equilibrato quindi non è che alla prima sconfitta si può già cominciare a dare giudizi, ci può stare, capiterà anche alle altre sicuramente, io dico che andare a Casal Grande comunque anche negli anni passati non era mai stato facile per il Bressanone e in generale per tutte le contendenti e pretendenti all'alta classifica, secondo me comunque quest'anno l'equilibrio è sovrano e quindi tutto è in gioco fino all'ultima giornata. Vediamo il campionato di Serie A2, anche qui si giocava la quarta giornata tra il appunto Appiano che vince ancora 33-27 contro l'Arcon, poi il Trieste 32-24 batte il Palazzotto, poi abbiamo la vittoria del Malo 28-24 sulla seconda squadra del Cassano, Molteno che vince 32-24 sul San Vito Marano, poi la vittoria esterna del Vigasio sul Dossobuono 27-26, poi 34-26 vince il Torri sul Colonie e l'Uno che vince sull'Arcobaleno 27-23. Vediamo la classifica, questa classifica è già praticamente, l'Appiano la sta dominando con 8 punti, il Trieste con 7, Molteno e Torri con 6 e poi via via tutte quante le altre. Chiedo a te Wampi, l'Appiano quest'anno sarà secondo te assieme al Trieste e loro due le squadre da battere in questo girone? Sì, penso che sì, l'Appiano l'abbiamo affrontato due volte alla preparazione, un paio di amichevoli, e veramente per la due loro hanno un'ottima squadra, anche stanno cercando di inserire tanti ragazzi da piano, quello mi sembra importante, e penso che sì, loro insieme al Trieste e al Molteno sono le squadre un po' da battere in questo girone. Concordi? Sì, ci sarà sicuramente, secondo me, più andranno avanti i mesi, ci sarà più battaglia, nel senso che qualche altra squadra comincerà, come ogni anno, a rinforzarsi un po', a rimescolare le carte, magari anche il Belluno, squadra nuova, quindi sarà un po' più difficile, però a piano e Trieste in questo momento hanno un gradino in più verso la Serie A Gold, poi ci sarà la battaglia per la Silver e la Bronze. Ecco, siamo andati al momento del primo servizio filmato, si giocava a Brixen, a Bressanone, c'era questo big match, arrivavano i campioni d'Italia del Conversano, andiamo a vedere come sono andate le cose. C'è il nome del Brixen sulla copertina della quarta giornata di Serie A Gold, gli altotesini vincono 28-23, primo tempo 14-11 nel match clou contro il Conversano, costringendo i campioni d'Italia al primo passo falso stagionale. Per i Brixenesi, in estate, tra le realtà più attive del mercato, è un segnale chiaro lanciato alle aspiranti al tricolore. Per gli amanti della Serie A Gold, invece, è una testimonianza della stagione che sarà equilibrio, incertezza e belle partite. Al Palasport di Via del Laghetto si vive di strappi, come il 3-0 aperto da Stricker e chiuso da Arceri, con cui Bressanone passa a condurre sulla 14-8. Conversano è durissima a morire e nella ripresa trova il 20-18 con Possamai. È un fuoco di paglia, al 47esimo i Brixenesi aprono un parziale di 6-2 che vale il 27-20 e costringe Terafino al time-out. La rimonta però non arriva per Brixen, che deve ancora recuperare due partite. Dopo gli impegni in European Cup arrivano due punti, dal grande peso specifico. Quampi, abbiamo visto la partita del Brixen. Il Brixen, dopo aver vinto, anche passato il turno in Coppa, probabilmente ha acquisito ancora più consapevolezza dei propri mezzi. vincere poi questa vittoria con Conversano. Sì, penso loro dopo l'andata in Coppa avevano un po' di dubbi, ma dopo passare il turno e adesso vincere con Conversano, penso che, come hai detto te, hanno preso questa consapevolezza e fiducia che per una squadra come loro sarà pericolosa per tutti gli altri che prendano questa fiducia, diciamo. Luca, squadra da battere? Ah, non c'è da dire, non devo dirlo io. Sicuramente il Bressanone sabato è stato dominante e mi aspetto che sarà così anche per tutta la stagione. Quindi dici la lotta tra loro due, Conversano e Bressanone, vedi qualche altra che si può inserire? Sassari, secondo me Sassari può essere una fra le pretendenti, forse di più del Conversano, perché Conversano è squadra nuova, quindi potrebbe essere un dato questo importante per questo avvio di campionato dove Conversano comunque ha faticato un po' in casa col Bolzano, ha faticato adesso a Bressanone, anzi, non c'è stato, esattamente, quindi non ha dato l'impressione di essere così, mi ripeto, dominante come il Bressanone sabato, perché le vere squadre, quelle che vincono, si vedono negli scontri diretti e se il Bressanone mi fa uno scontro diretto così, più che squadra da battere non può essere. Ecco, invece andiamo a vedere il tuo Pressano, il Pressano giocava a Siracusa, una partita che sulla carta si poteva nascondere qualche insidia, invece non è stato così, andiamo a vedere perché. Un'altra vittoria lascia il sorriso alla pallamano Pressano-Cassa di Trento che firma il terzo successo consecutivo in Serie A Gold e si attesta nella parte alta della classifica dopo quattro giornate di massima serie. I gialloneri di mister Alessandro Fusina hanno superato al Palavis la formazione siciliana del team network Albatro-Siracusa con il punteggio di 25-19. Equilibrati i primi 20 minuti, poi Pressano ha preso il largo gestendo la ripresa non senza patemi d'animo, ma portando a casa alla fine l'intera posta in palio. Squadra insidiosa, Siracusa parte meglio nel match 1-3 prima del pronto ritorno giallonero grazie alle parate di Loizos che compensano un attacco poco smagliante. Si passa al 5-4 in favore dei padroni di casa ma gli ospiti non mollano e restano in scia. In fase offensiva Pressano non riesce a trovare le soluzioni adatte ma proprio nel finale della prima frazione i gialloneri accelerano con Dantino e Dallago che bucano la porta di Martelli ed infilano il primo parziale del match portando le squadre all'intervallo sul 13-9. I padroni di casa cominciano la ripresa con un buon vantaggio allargato subito a 5-6 reti prima di un periodo leggermente contratto. L'equilibrio regna fin sul 18-14 ma Pressano sembra avere la partita in mano poi sale di tono Ceccardi che trascina i suoi con gol ed assist prima è 21-14 quando mancano 10 minuti al termine poi Siracusa reagisce e riesce in breve tempo ad avere il pallone del meno 3 ma Loizos ci mette ancora una pezza e per Pressano è solo gestione. Il match finisce increscendo 25-19 che fa festeggiare il Palavis sabato prossimo ultimo turno prima della sosta per le nazionali ancora al Palavis con il match di cartello contro la Junior Fasano alle ore 18.30. Sono contento del risultato principalmente anche perché questa era una partita per noi molto importante dovevamo dare continuità agli ultimi due risultati credo che abbiamo fatto il nostro abbiamo sempre un po' un inizio o delle fasi nel gioco dove sbandiamo un po' però penso che è normale diciamo non tutte le squadre penso che tutte le squadre sono un po' così in questo inizio di stagione anche noi abbiamo cambiato tantissimo e ritengo Siracusa comunque una squadra che è attrezzata bene e credo che la vittoria sia limpida. A 20 minuti del primo tempo è cambiato qualcosa è cambiato che l'arbitro ha fischiato il secondo due minuti a Sotoqueto e c'era sfondamento tant'è vero che alla fine della partita se avete notato lui si è venuto a giustificare con me e con Sotoqueto ha chiesto scusa da lì ha cambiato un po' l'inerzia perché Sotoqueto è uno dei nostri punti di riferimento perciò abbiamo giocato condizionati sempre facendo attacco, cambio e difesa e abbiamo avuto una settimana in cui abbiamo cercato di recuperare Bobic che non è al 100% perciò avevamo due giocatori in questo momento che dovevano sempre cambiare e questo ha condizionato tutto il secondo tempo. Ecco Luca abbiamo visto le immagini del vostro confronto siete una squadra rinnovata ha cambiato molto però diciamo che Fusina sta facendo un ottimo lavoro Sì in questo avvio di campionato per ora è andato bene come ho detto all'inizio abbiamo fatto il nostro dovere nel senso che abbiamo vinto partite contro squadre al nostro livello che è una cosa molto importante e ora vedremo quanto riusciamo a fare contro le squadre di massimo livello abbiamo Fasano poi riprenderemo dopo la sosta avremo il Bressanone inizio novembre il Merano metà novembre subito dopo il Sassari insomma sarà un periodo molto impegnativo però per ora la squadra tra qualche alto e qualche basso ma ha risposto molto bene e soprattutto ha dimostrato di essere quadrata anche quest'anno in difesa che è una cosa importantissima per noi Guampi parlando appunto di difesa voi del Merano alternate prestazioni molto buone o prestazioni come il secondo tempo con il Fondi dove prendete 20 gol Sì, anche penso è un rischio che ci prendiamo perché vogliamo giocare veloce è il nostro penso il nostro segno vogliamo fare partite veloce con un alto ritmo e penso che quello lo dobbiamo migliorare che perdiamo tanti paloni o sbagliamo alcuni tiri che forse non ci dobbiamo prendere e appunto il Presano in difesa penso che probabilmente questi ultimi due o tre anni è la squadra più costante più forte in difesa Perfetto, siamo andati al momento del primo stacco pubblicitario andiamo alla linea alla regia poi torniamo in studio con la seconda parte della trasmissione e poi torniamo in studio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dal più 7 del primo tempo siamo andati a meno 4, meno 3, gli ultimi 10 minuti sono stati abbastanza difficili. Abbiamo voglia di vincere oggi dopo aver perso un punto in trasferta a fondi. Diciamo che si è visto anche in campo, abbiamo tutti voglia di vincere, tutti voglia di prendere questi due punti e siamo felici di averla portata a casa oggi. Noi stiamo provando un po' a cambiare il nostro DNA e cambiare il DNA è dura, no? Cosa mi riferisco? Che abbiamo dei passaggi a vuoto e gli ultimi 12 minuti del primo tempo, ma vuoto vuoto, vuoto vuoto, non un gol, tantissime palle perse e lascia la mare in bocca in quei termini lì. La sconfitta lascia la mare in bocca in quei termini lì. Siamo venuti a Merano, abbiamo giocato a pallamano e forse a sentire anche i discorsi dei nostri ragazzi, dei miei ragazzi, è già sufficiente. No, noi siamo forti, noi dobbiamo venire qua a puntare a vincere. Io penso che Rubiera è forte e deve giocare, lottare su ogni campo e togliere i passaggi a vuoto. Io credo questo. Ecco, Wampi, primo tempo abbiamo visto dominato, secondo tempo un po' in sofferenza, poi ci ha pensato anche con le luori, con quella parata, chiudere la porta e poi avete allungato di nuovo. Sì, anche un po' per questo che parlavamo. Noi vogliamo giocare veloce, correre tutti i 60 minuti. Il Rubiera faceva un gioco più o meno uguale e penso che, come ho detto, abbiamo sbagliato un paio di tiri da 6 metri e quello li ha fatto avvicinare a loro, ma penso abbiamo fatto una buona partita e sempre l'abbiamo controllato. Wampi, quanto vi pesa? Adesso sappiamo che siete senza la vostra palestra, è stata chiusa, avete fatto la preparazione fino ai primi di settembre in palestra, poi la palestra è stata chiusa, doveva essere chiusa un mese, adesso pare che diventino tre. Vi state allenando con continuità, vi manca? Sì, alla fine è un po' pesante perché ci alleniamo un po' più tardi di quello che siamo abituati o forse tutte le settimane dobbiamo cambiare o adeguarci agli orari dell'altra palestra. Però non è una scusa, noi, tutta la squadra unita, sì, non è il top, però non è un problema grande, noi ci alleniamo e basta. Il problema più che altro, Luca, non so, l'avete anche voi, mi accennavi prima, è proprio per la società Merano perché loro in qualche maniera hanno trovato ospitalità, la Gundo fanno le partite, però chiudere una palestra in una città di 40 mila abitanti con tutte le società sportive, c'è il settore giovanile che inizia a avere proprio problemi. Io se mi dovessi immaginare che Alavis, per qualsiasi motivo, da un giorno all'altro il Palavis dovesse chiudere per tre mesi, sarebbe una catastrofe, perché non abbiamo, a parte che non abbiamo campi 40x20 dove si possa praticare la pallamano, se non a mezzo corona e a besenello, quindi a distanza di 10 e 25 km. Quindi non oso immaginare la difficoltà, è un problema, però può capitare e l'importante è riuscire comunque a trovare una quadra, continuare ad allenarsi, il periodo passerà, insomma, è un bel handicap. Sì, il problema è che la carenza di impianti sportivi, soprattutto a Merano, inizia a pesare, perché, ripeto, mancando questa palestra, c'è il basket che ha ore, ci sono gli altri sport che giustamente hanno le loro palestre, venendo una pallamano che ha tutta la filiera, tutto il settore giovanile, so che ha grossi, grossi problemi. Sì, è così e io la rapporto un po' anche alla nostra situazione, che è la medesima, bisogna convivere, e dal momento che chiude un impianto chiave, cruciale, va tutto in crisi, poi. Ecco, questo è l'altro momento della Stube, questa volta con Luca Boninsegna, che ha incontrato a Merano, c'è una vecchia conoscenza della Pallamano, andiamo a scoprire chi è. Cari amici della Pallamano, bentornati alla Handpal Stube, oggi abbiamo il piacere di avere Luigi Malavasi qui con noi. Ciao Luigi. Buonasera a tutti, grazie. Dopo tanti anni in Romagna, sembra strano vederti con questa maglia. Sì, come ti dicevo prima, avevo voglia di fare questa esperienza da anni, non ho mai avuto l'opportunità e l'occasione di farlo da giocatore, e come allenatore invece conoscevo ormai da anni Jürgen, conoscevo Andrea tramite il lavoro con le varie nazionali, prima giovanili e poi senior, e quindi nel momento in cui Andrea è arrivato qui, con le luoghi è arrivato qui, una cosa tira l'altra, una chiacchierata dopo l'altra, insomma siamo riusciti a mettere insieme questo accordo e sono molto contento perché è un'esperienza bellissima. Una figura, quella dell'allenatore dei portieri, che in Italia forse non è così valorizzata, però che è molto molto importante. Sì, sì, ovviamente sono messo in una porta aperta su questo tema, il portiere di fatto fa uno sport diverso rispetto agli altri, inserito in un contesto di squadra, è necessita di una figura professionale a lui dedicata perché le metodologie, le programmazioni settimanali, mensili sono diverse, quindi assolutamente questa cosa è sacrosante. Tu sei stato un portiere di ottimo livello, adesso ti stai volendo a allenatore di portiere di grande livello. Sei già nel giro della nazionale, quindi... Sì, io devo dire che ho avuto la fortuna, appena finita la mia carriera da giocatore, di approdare il nazionale prima con le squadre giovanili, poi dopo con la nazionale senior. Per un periodo di tempo ho seguito tutte e tre le nazionali, adesso mi sono concentrato solo sulla nazionale senior, anche per questioni di tempo e per poter fare un lavoro più mirato e poi lavoro con i club, ne ho fatti specie con Merano, qui sono tesserato. Forse è uno dei ruoli anche a livello nazionale dove siamo più coperti, il ruolo dei portieri. Sì, sì, abbiamo tanti giovani validi, tanti ragazzi interessanti sia a livello giovanile sia a livello senior e quindi le rotazioni sono una cosa positiva sia per quello che riguarda il discorso della squadra nazionale ma anche per far crescere le nuove leve che hanno la possibilità di confrontarsi con atleti di ottimo livello. Lasciando a parte Merano, ti sei posto degli obiettivi per questa stagione? L'obiettivo che la società si data, che noi come staff, come ragazzi non nascondiamo, è quello di provare i vari play-off. Io credo che la squadra, ancorché giovane, sia strutturata per questo obiettivo e ci crediamo, ci crediamo assolutamente. E il tuo obiettivo personale da allenatore dei portieri? Il mio obiettivo personale è far sì che, come è successo anche oggi nella parte conclusiva della gara, che i portieri siano concentrati, siano nelle migliori condizioni possibili per rendere al massimo, soprattutto quando il punteggio richiede qualche parata di quelle che spaccano la partita. Stasera sia Riccardo, quando è subentrato, sia Andrea con l'ultima parata decisiva, due minuti dalla fine, insomma sono stati in questo molto incisivi e il mio compito è proprio quello di metterli nelle condizioni, di essere concentrati quando il risultato lo richiede e quando le parate fanno la differenza. Gigi, io ti ringrazio della chiacchierata e ci rivedremo spesso sui campi. Alla tua. Alla tua, grazie. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Eccoci nuovo in studio, abbiamo visto Malavasi che è arrivato a Merano ad allenare i portieri, un altro bel acquisto, la società meranese ha anche puntellato alcuni settori, anche tecnici. Sì, sicuramente la società di Merano ha questa natura, gemellaggio, ispirato a quello che è il settore tecnico delle nazionali. Anche poi per quanto riguarda i giocatori è molto legata all'ambiente azzurro, dove insomma ce ne sono parecchi a Merano e anche dal punto di vista tecnico hanno deciso di andare a puntare all'eccellenza, cioè ad allenatori e tecnici che lavorano già da anni con il settore tecnico delle nazionali. e Gigi Malavasi io l'ho sempre visto giocare, ma ho avuto anche la fortuna di seguire con la delegazione della nazionale Under 18 nel 2018 in Georgia agli europei di seconda divisione e lui era presente e quindi ho avuto la fortuna di poter condividere un'esperienza palamanistica anche da non giocatore con lui e davvero parte della persona squisita, straordinaria, come tutta la sua famiglia, insomma il cognome Malavasi è sempre stato rispettato nel mondo della palamana italiana e sono sicuro che visto come si applica, come studia, come cerca sempre di migliorarsi e anche perché è giovane comunque, potrà solo che fare del bene a Merano e a tutta la palamana italiana, quindi sicuramente è stato un grandissimo acquisto per la società meranese, Gigi. Voi a Merano avete cambiato i portieri, oltre che i due portieri con le luori e i fasanelli, si sono ambientati nel gruppo, tu ormai sei un veterano. Sì, loro due, anche Gigi, sono tutte per prima brave persone e questo fa tutto più facile, diciamo sia Andrea che Riccardo sono veramente tranquilli e si allenano bene anche, questo, loro sono responsabili, professionisti e anche bravi ragazzi, questo ha fatto che per loro sia facile inserirsi nel gruppo. Ecco, siamo andati al momento della top 7 di questa settimana, andiamo a vederla insieme, la top 7 scelta dalla giuria in porta a Mate Volarevic, qui c'è stato, eravamo indecisi tra Mate Volarevic e Loizos, perché poi può confermare anche Luca che poi ha fatto delle gran parate, abbiamo messo alle ali Visentin 4 su 4 solo nel primo tempo e Queglio, anche se tu giochi da terzino in quest'anno, però hai fatto 7 gol, 2 te li hanno tolti, in realtà ne avevi fatti 9, te ne hanno tolti 2 da referto, questo capita spesso, però diamo a Cesare quello che è di Cesare. I terzini abbiamo ovviamente Bulzamini e Dallago, che è un po' come il vino, Luca migliora ogni anno che gioca, Ardian Iballi nel ruolo di centrale, Andrea Basic 11 gol col Bolzano 60 minuti, è veramente in una forma devastante in questo avvio di stagione. Davo Ciutra, l'allenatore di settimana, batte nel big match il conversano, il campione d'Italia, quando sei favorito e giochi in casa e riesci a vincere, c'è tanto della tua mano, ecco. Luca, un tuo parere? Sì, sono d'accordo, ho visto la partita di Matte, ha fatto una partita straordinaria e lo metto alla pari del nostro Nikos, che dal primo all'ultimo minuto ha davvero alzato l'asticella e per il resto sono d'accordo, sono d'accordo anche su Dallago, che aveva cominciato la partita un po' in ombra, poi è stato decisivo a fine primo tempo sia in difesa che in attacco, recuperando palloni e segnando il primo break, e anche nel secondo tempo ha fatto molto bene, però quando c'è un Bressanone che gioca così con il conversano è giusto che la top 7 sia monopolizzata, perché significa che sono stati decisamente i migliori quasi in ogni ruolo. Wampi, ti trovi d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo con Luca, con i giocatori del Brixen, vincere in casa con il conversano e vincere così è giusto che siano loro, anche Ciutura, e poi sono contento per Luca Vicentini, lui quest'anno veramente sta facendo fino ad adesso una bella stagione, si sta impegnando tanto, poi c'è da dire anche Basic, lui con tanti anni fare 11 gol veramente dimostra che ancora ha questa voglia di giocare e ovviamente sta facendo benissimo. Voi Luca Vicentini l'hai citato, forse si diceva all'inizio stagione, partendo Froin, quel lato dell'ala di Merano, Luca Vicentini, poi arrivato anche da Trieste, Parisato, era forse l'ala che dava meno garanzie, non nel senso di qualità, ma che sono giocatori relativamente molto molto giovani, soprattutto Vicentini, eppure Luca sta giocando bene. Sì, ma ha giocato bene anche l'anno scorso, ha dimostrato negli ultimi due anni di essere un grande potenziale, tant'è che era la prima opzione in nazionale, anche giovanile, e sicuramente è un degno sostituto di Ali Froint, e vedremo insomma come proseguirà la stagione, perché comunque un giocatore giovane c'è sempre il rischio che possa fare un periodo buono, un periodo meno buono, perché comunque non hai la solidità, l'esperienza di un giocatore di una certa età che comunque sa gestirsi, sa essere sempre pronto mentalmente. Però io ci ho parlato anche fuori dal campo e non è un ragazzo con la testa fra le nuvole, è un ragazzo con la testa sulle spalle, e quindi sono sicuro che riuscirà a tenere un ottimo livello tutta la stagione e in futuro migliorare ancora. Perfetto, siamo andati al momento del secondo e ultimo stacco pubblicitario, diamo la linea a regia e poi torniamo in studio con l'ultima parte della trasmissione. Grazie a tutti. La bontà è una scelta, come dedicare più tempo alle persone che amo, perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Loacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Loacker, ora più che buono. Loacker, che bontà! Vieni nell'Alpina Arena Senales e vivi la tua avventura. Eccoci nuovo in studio, abbiamo un po' visto tutte le squadre impegnate, adesso c'è ancora da vedere la partita del Bolzano, il Bolzano giocava in casa, arrivava il Campus Italia, questa formazione che era reduce da un inaspettato rocambolesco pareggio contro il Cassano in casa. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Pronto riscatto del Bolzano che batte il Campus Italia per 42 a 37 e torna in vetta alla classifica in condominio con ben altre quattro squadre. I biancorossi hanno sbrigato la pratica nel primo tempo, quando con un'accelerazione hanno messo tra sé gli avversari 12 gol di vantaggio. Il resto del match è stato in piena gestione del risultato, con una girandola di uomini in campo. Pronti via e la sblocca Deanna Turkovic, un grande Manojlovic ribalta il risultato con il Campus che conduce sul 2 a 1. Sarà l'unico vantaggio dei ragazzi di Maione, i biancorossi si scuotono e vanno sul 5 a 2. Gli ospiti si affidano alle giocate del duo Manojlovic e De Angelis, dal 6 a 4 i Bolzanini operano il forcing che in meno di 10 minuti li porta ad archiviare il match. Dal 13 a 6 al 24 a 12 un Bolzano gioca da grande squadra, Basic segna gol a ripetizione e Rotensteiner sostituisce al grande Hermones apparso in giornata no. Nel finale del tempo gli ospiti si scuotono, recuperano due reti, ma sono sempre i Bolzanini a mantenere il comando delle operazioni. Le squadre vanno al riposo con il Bolzano avanti per 25 a 15. Nella ripresa è De Angelis e Manojlovic show con sette reti in rapida successione, il Campus si riporta sotto fino al 29 a 23. A questo punto grande intervento di Hermones a non consentire agli ospiti di rientrare nella partita. Scampato il pericolo, un grande Basic rimette i suoi avanti di 7 punti sul 30 a 23. Il Bolzano è comunque padrone del campo, tuttavia Mario Sporcic chiama time out e strigliando i suoi ragazzi che appaiono meno concentrati rispetto alla prima frazione. I giovani rampolli di Maione le provano tutte per rientrare in partita, ma è sempre Basic a impedire loro di rifarsi sotto. Sporcic manda in campo tutti i suoi effettivi che mantengono tra loro e gli avversari un discreto margine di vantaggio sino ai minuti finali. Finisce tra gli applausi del pubblico del Palaga Steiner con i Bolzanini che riconquistano la vetta della classifica. Siamo soddisfatti della partita, sono felice anche che il mister mi ha dato anche un buon minutaggio. Non è mai facile, è inizio del secondo tempo, perché come si è visto anche contro Cassano, anche contro Siracusa, è una squadra che corre veramente tanto e hanno recuperato contro tutti, sia contro noi che contro l'altra squadra, come si è visto la settimana scorsa contro Cassano. Non veniamo su questi campi per vincere, ci proviamo certo perché non è che andiamo in campo per perdere, proviamo sempre a fare risultato. Noi siamo, dico io, la mina vagante, la sorpresa, dobbiamo cercare di sorprendere le squadre avversarie, di giocare con la velocità, col brio, con la frinzattezza che contrastingue i ragazzi di 18 anni. Eccoci in nome in studio. Uampie è un Bolzano in primo tempo straripante. Quest'anno il Bolzano secondo te è molto più forte rispetto all'anno scorso? Sì, penso che hanno fatto una buona campana di acquisti. Hanno preso questi stranieri che sono bravi, sia Pancic che le due ali. E poi ci sono i soliti Dean, Adesovasi, Cermones. Penso che... Ed è entrato Dovicic. Eric, ecco, sono una squadra veramente da non sottovalutare e penso che hanno fatto un passo avanti rispetto all'anno scorso. Si ha visto questa partita, l'hanno approcciato bene. Il primo tempo erano sopra di 10-12 gol. Poi, ovviamente, hanno girato tutta la squadra. Il campus ha accorciato un po' le distanze, ma sempre il Bolzano tutto sotto controllo, diciamo. Ecco, facciamo anche l'in bocca al lupo per l'infortunio di Fantinato. Era qui la settimana scorsa. Ci aveva quasi detto che sarà un brutto infortunio. è stato operato, o viene operato appunto, è stato operato oggi. Ovviamente dispiace sempre quando il giocatore si infortuna. Lui sarebbe stato un mancino che avrebbe fatto molto comodo. Sicuramente è uno dei migliori mancini in circolazione. È sempre una brutta notizia, insomma, quando c'è un infortunio di questo genere che comporta anche poi un'operazione chirurgica. Non è bello. Luca, il campus, questa squadra di giovanissimi, giovanissimi, guardavo l'altro giorno il roster, il più vecchio del 2004, in pratica, tutti i giocatori giovanissimi con delle individualità, cioè questo Manolo, Viz De Angeli su tutti, che sono giocatori dalle grandi potenzialità in futuro. Sì, allora, il campus è partito l'anno scorso con questo progetto sul bienio 2004-2005, tant'è che poi adesso bisognerà capire, anche negli anni, nei prossimi anni, se verrà rimpolpato quei 2006-2007, oppure se si faranno dei progetti diversi. È difficile da valutare perché bisognerebbe capire realmente quello che è il tasso di crescita dei ragazzi. Sicuramente lavorare assieme, essere una squadra che vive assieme, che studia assieme, che fa praticamente un'attività professionistica, è sicuramente meglio rispetto a un'attività di club, per come intendiamo noi club in Italia, cioè ci si allena la sera, mezza squadra lavora, mezza squadra magari no, e quindi è sicuramente un progetto studiato con intenti migliorativi, ovviamente. La Serie A vedremo a metà campionato, secondo me, se sarà servita o meno ai ragazzi, perché fino adesso io li ho visti molto bene, li ho visti grintosi, spavaldi, spensierati, quello che ci si aspetta da ragazzi di 18-17 anni, e vedremo a metà campionato se fare la massima serie sarà stata una scommessa vinta oppure qualcosa che non ha portato a migliorie per la squadra. Sicuramente è stato un ottimo compromesso tra l'avere un campionato a pari squadre, cioè 14, e unire a questa necessità il fatto di mettere dentro una squadra giovane. Siamo arrivati al momento di vedere i top goal, le top parate scelte questa settimana, partiamoci dai goal, vediamo quali sono i goal, li commentiamo insieme, il primo è questo qui di Felipe che fa doppia finta, salta e va via così, vediamo qui uno, qui finta il passaggio dietro la schiena e poi va e segna Felipe Gaeta uno dei suoi goal. Poi il secondo è questo qui, la doppia Kempa, l'abbiamo visto una anche molto bella, questa qui è di Wampi Queglio nel Merano. Poi il terzo goal è questo qui, molto bello, del vostro Francisco Ceccardi, poi dopo li commentiamo insieme, Luca, poi vediamo anche quale sarà quello che scegliete, anticipa così il difensore e riesce poi a metterla dentro con questo molto molto astuto e molto opportunista, diciamo, poi abbiamo questo qui di Basic che anche qui lui è uno dei suoi undici goal, vedete qui Pansic come lo va a pescare, lui si riesce a trovare lo spazio e poi anche qui riesce a beffare così il portiere. Poi abbiamo questo goal di Iballi, anche qui la classica Kempa, anche questa molto bella, ne abbiamo viste due di Kempe, questo qui, ecco abbiamo visto cinque goal, uno più bello dell'altro, Luca il tuo preferito? Io dovrei essere di Basic, ma Felipe mi fa impazzire, Felipe è un fenomeno, io ogni anno lo dico, però secondo me quando avrò 40 anni io sarò ancora qui a dire che Felipe è straordinario, aveva 40 anni e giocoliere è ancora, bellissimo, bravo, veramente, super. Wampi, c'è anche il tuo goal qui in mezzo? In questo sono un po' egoista, penso il più bello l'abbiamo fatto noi con Vise, però anche tutti i cinque goal molto belli, sia quello di Cercardi, quello di Basic, belli gesti tecnici, però il vostro. Prende il mio. Bene, andiamo a vederci invece adesso le parate, quali sono state le parate scelte questa settimana. Abbiamo questa di Hermones, anche questa molto bella in contropiede, qui era un momento delicato perché nel secondo tempo stavano recuperando, era la rete del meno 2 questa, potenziale rete del meno 2 di... poi abbiamo questa parata di Coleluori, qui praticamente ha chiuso così la porta, penso Santilli chi era il... poi abbiamo questa parata di Loizos, anche questa molto bella, vedi che aspetta l'attaccante che arriva, e lo aspetta e proprio va lì dove lui voleva tirare, molto bello anche questo. Questa. Poi abbiamo questa di Rottenstainer, anche questa molto bella perché nel primo tempo sembrava un bel passaggio volante, Rottenstainer ha fatto un partitone, anche lui, sta giocando, gli sta dando minuti, Mario. E poi abbiamo questa di Fasanelli, che anche questo sta giocando nel secondo tempo e fa minutaggio, insomma, anche qui la tua preferita, Wampi? Quella di Loizos mi sa molto bella. Magari era meno spettacolare forse di quella di Rottenstainer o di Hermonis. L'attaccante ha fatto una finta, lui è rimasto fermo, poi ha aspettato bene e quella di Rottenstainer è spettacolare anche. Luca? Sì, sono d'accordo, la parata di Nikos è stata importantissima perché era il primo minuto, subito erano 1-0 loro, noi al secondo attacco, altra pala persa, contropiede, potevamo iniziare molto male e invece lui con quella parata ci ha dato sia la fiducia subito di dire partiamo bene, non partiamo male e poi ha cominciato a parare subito. Primo tempo penso che abbia fatto 11 parate, 12 parate, proprio un... è stato un mostro e quindi dico lui per spettacolarità Rottenstainer, gran, gran riflesso, bellissima parata sulla Kempa poi. Sì, sì, Rottenstainer è... dicevo appunto prima, Mario gli sta dando minuti e li dimostra anche facendo delle gran parate. Quindi adesso il campionato va avanti, come... prossime giornate, Luca, come vedi? Allora, noi abbiamo sabato il Fasano in casa. E poi c'è la pausa lunga. Poi c'è la pausa. Abbiamo sabato il Fasano in casa e è molto significativa secondo me come partita perché affrontiamo una squadra che sulla carta è... potrebbe essere più forte di noi. anche se io ritengo che bene o male a parte un paio di squadre siamo tutte lì. Però il Fasano storicamente è comunque una squadra di vertice. Quindi affronti una squadra di vertice venendo da tre partite da tre vittorie consecutive in casa. Secondo me questa è la partita per capire quanto possiamo andare avanti. Che livello possiamo raggiungere. e vedremo. Guampi voi andate in trasferta andate al campo del Romagna Romagna che è partito a Bolzano perdendo male comunque però giocare in trasferta è sempre difficile. Dobbiamo dare un po' riconferma a quello che abbiamo fatto sabato e poi l'ultima trasferta nostra anche contro una neopromosa non è andata benissimo allora nessuna squadra è di sottovalutare andiamo là per vincere e per fare una buona partita. Ecco io faccio ovviamente in bocca al lupo in bocca al lupo a voi Luca in bocca al lupo anche al Pressano noi ovviamente saremo a seguire il campionato io ringrazio tutti coloro che ogni settimana contribuiscono alla realizzazione di 7 metri e le amiche e gli amici della Palamano d'appuntamento tra sette giorni qui su BB33. Ciao ciao a tutti e alla prossima a tutti Grazie a tutti.